L'Italia è paese denuclearizzato, ma la filiera radioattiva non si è mai veramente interrotta. Il trasferimento dei rifiuti delle centrali dismesse è attività coerente con i processi di decommissioning, l'ultima fase del ciclo di vita di un sito nucleare. Dalla centrale di Caorso a Piacenza, la più grande di Italia, in attività dall'81 all'87, è partito il primo dei 33 trasporti previsti per trasferire circa 5.600 fusti contenenti resin e fanghi radioattivi. Destinazione dei residui è l'impianto di Bounice, in Slovacchia, per il loro trattamento e condizionamento. Le scorie saranno ridotte al 90% del loro volume prima di rientrare a Caorso ed essere stoccate nei depositi temporanei del sito, pronte per il conferimento al deposito nazionale, che ancora non esiste. In ogni caso, la conclusione del programma di trasferimento dei fusti, predisposto da Sogin, la società creata per gestire la denuclearizzazione, è prevista entro il 2022. L'intero ciclo della sola centrale del Piacentino, con il rientro dei rifiuti trattati, costa 37 milioni di euro. Dai referendum dell'87 del 2011, il mandato antinucleare ha fatto pochi passi avanti e molte sono le critiche in relazione ai ritardi nello smaltimento dei siti e alla spesa per il condizionamento dei rifiuti pregressi. Il capitolo deposito nazionale è altra grana irrisolta. Ancora nessuno sa dove l'Italia depositerà in via definitiva e in sicurezza i propri rifiuti radioattivi.